ecco computer la pubblicità contrario guarda che sto e va di lì contrario tu passa dentro fuori di là ok messo a poschè adesso tirati giù stiamo allestendo il gazebo regolatevi voi qua vado su ancora uno allora se volete infilarvi intanto che possiamo partire così ok allora è abbastanza intuitivo ok allora scolgo l'occasione a ringraziarvi tutti perchè siete dei biker non 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 dai non 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 Grazie a tutti.